Antonio Mauriello, autore del 3-0 del Boiano, sono giunte buone indicazioni al termine di questa partita, allora facciamo una disamina, commentiamo l'esito della gara. Sì, vincere va sempre bene, abbiamo iniziato con il piede giusto, siamo all'inizio, c'è tanto da lavorare ancora, ci manca qualcosina, ma come ho detto è stato un buon inizio, la condizione fisica ancora non ci assiste del tutto, però va bene così. Ecco, siete nel pieno, nel bel mezzo della preparazione, sicuramente l'obiettivo non è la Coppa Italia, ma il campionato, tra pochi giorni conoscerete anche il vostro cammino, un campionato che si prospetta bello duro, sono scese due squadre dalla Serie D, quindi un campionato di eccellenza impegnativo. Sì, penso che sia, diciamo come l'anno scorso, molto impegnativo, l'abbiamo provato sulla nostra pelle, che ci siamo salvati ai play-out e, come ho detto, siamo all'inizio, abbiamo iniziato da una decina di giorni, c'è tanto, tanto da fare, ma abbiamo tutte le carte in regola per fare un bel campionato e per divertirci soprattutto. A che punto è la squadra, secondo te? Eh, come ho detto, ci manca qualcosina, ci sono alcuni miei compagni che per il momento sono indisponibili, ma che si aggregheranno al gruppo, penso già la settimana prossima, qualche altra cosa bisogna andarla a prendere dal mercato, diciamo fino a metà settembre c'è tempo, e quindi c'è entusiasmo, siamo contenti e siamo molto fiduciosi. Grazie.